Nella prima settimana di zona gialla ha confermato per l'Abruzzo il miglioramento dell'indice di trasmissione del contagio, passato da 0,84% a 0,78%. Dal nuovo bollettino Covid, anche oggi dati in linea con quelli della settimana, ovvero riduzione della pressione ospedaliera, contagi contenuti e anche tanti guariti. Purtroppo ancora vittime 6. Ma per tutti i dettagli abbiamo in collegamento Anna Di Giorgio che saluto e a cui cedo la linea. Buonasera Anna. Buonasera Paolo, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del Tg8. Prendo la linea proprio da Chieti insieme al collega Diego Martelli per raccontarvi un po' quelli che sono i dati odierni di questo venerdì 30 aprile 2021. Come dicevi bene tu, sono dati in linea un po' con quelli della settimana. Intanto c'è da dire che la percentuale di positivi sul numero dei tamponi effettuati rispetto a ieri è scesa dello 0,4%. Ieri eravamo al 2,8%, oggi siamo al 2,4%. E allora nello specifico vi diciamo che i nuovi positivi di oggi sono 151, di età compresa tra 4 mesi e 98 anni, individuati su 4.032 tamponi molecolari e 2.313 tamponi rapidi. La provincia che fa registrare un maggior numero di positivi oggi è la provincia di Chieti che registra un più 47, seguita dalla provincia dell'Aquila con un più 40, poi da quella di Teramo con un più 35, ultima la provincia di Pescara con un più 27 positivi al Covid-19. I deceduti sono sei nel bollettino di oggi e questo porta il totale a 2.403 decessi. Le sei persone decedute e registrate in questo bollettino hanno un'età compresa tra 66 e 91 anni. Il numero dei dimessi guariti invece è pari a più 313, quindi un buon numero se si considera che i positivi di oggi sono 151, quindi un numero che in questo caso raddoppia con i dimessi guariti, numeri quindi che dicevamo all'inizio del nostro collegamento fanno comunque ben sperare. Gli attualmente positivi sono 8.383 in tutto, in questo caso si registra una diminuzione di 168. Gli ospedalizzati sono 374 e in questo caso si registra un meno 8. In terapia intensiva invece ci sono 36 posti letto occupati con una diminuzione di 3 unità. In isolamento domiciliare invece con sorveglianza attiva da parte delle ASL ci sono 7.973 persone. Il numero in questo caso decresce di 157 unità. Io non ti sento in linea Paolo perché credo di aver perso il collegamento telefonico con la regia, però volevo anche dirti che la ragione di questo collegamento qui da Chieti insieme al collega Diego Martelli davanti proprio all'ingresso del centro ITAB CESI, che è l'Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche dell'Università d'Annunzio di Chieti, si giustifica per il fatto che questa mattina, proprio qui dove assede il laboratorio di genetica molecolare, diretto dal professor Liborio Stupia, siamo venuti questa mattina proprio per sapere qualcosa in più dal direttore Stupia relativamente alla cosiddetta variante C11 che è stata sequenziata in questo laboratorio su due pazienti positivi al Covid-19 che hanno fatto rientro per motivi di lavoro dall'Egitto. Quindi siamo venuti proprio qui all'interno di questa struttura per parlare con il direttore e cercare di capire insomma perché questo tipo di varianti vanno attenzionate. Non so se mi senti Paolo. Ti sento, ti sento, forte e chiaro Anna. Sì, credo di aver preso il collegamento, quindi se sei d'accordo ti dicevo possiamo anche mandare in onda l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina al direttore Stupia e poi ti restituiamo direttamente la linea per andare avanti con il telegiornale. Bene così, allora sentiamo l'intervista al professor Liborio Stupia. Direttore Stupia, il vostro laboratorio di genetica molecolare ha individuato questa variante la cosiddetta C11 al virus, cosa ha di particolare e perché deve essere attenzionata? Allora è una variante molto rara, di particolare ha due cose. La prima che nella sua sequenza c'è una stessa mutazione in comune con la variante sudafricana e la variante brasiliana e quindi ci viene richiesto di attenzionare questi cambi. La seconda che l'abbiamo trovata in due soggetti rientrati da un viaggio di lavoro in Egitto e quindi anche in questo caso quando si trovano varianti particolari che vengono da paesi particolari ci si richiede di attenzionarle, quindi al momento non c'è preoccupazione la variante di per sé stessa non è inserita nelle liste delle varianti che devono preoccupare ma va attenzionata, quindi va seguita sul territorio, va comunicata, dire che c'è e però sappiamo che c'è e quindi la seguiamo. Si può sapere già se i vaccini sono comunque efficaci contro questo tipo di varianti? In generale i vaccini sono efficaci. L'unico dato ufficiale di una risposta di efficacia è relativamente alla variante sudafricana che non è questa. Su questa sono pochissimi casi al mondo, quella che abbiamo trovato sono in tutto 400 casi in tutto il mondo, quindi ancora non c'è nessun dato sulla risposta ai vaccini, ma l'unica in cui veramente c'è qualche dubbio sulla risposta ai vaccini è la sudafricana. C'è uno studio che ha pubblicato anche il suo laboratorio che dimostra che chi ha ricevuto già la seconda dose di vaccino comunque non deve preoccuparsi perché ha uno scudo in più contro queste varianti? Sì, assolutamente. Noi abbiamo visto che anche le persone che dopo la vaccinazione dovessero risultare a un test positivo rimangono positivi per pochissimo tempo, quindi evidentemente non sono tanto protetti dal fatto che il virus possa infettarli, ma poi il virus sparisce e non c'è mai una sintomatologia grave. Quindi questo è un segnale di positività che ci induce a dire a tutti quanti che la vaccinazione è importante. L'altro segnale importante è che stiamo vedendo che anche laddove il titolo anticorpale è basso c'è una buona risposta del sistema immunitario nelle cellule della memoria che ci fa stare ancora più tranquilli che quindi per un po' di tempo siamo protetti dai vaccini. Direttore, queste nuove varianti che vengono per lo più da paesi caldi ci fanno pensare che effettivamente la variante al virus può non necessariamente andare scomparendo con le alte temperature. Potrebbero esserci problemi anche per quest'estate? Diciamo che queste nuove varianti, che sono diverse dal ceppo originale con cui abbiamo a che fare, stanno dimostrando che col caldo si possono diffondere. È chiaro però, altro è la diffusione possibile in un paese come l'India dove c'è anche un problema di sovrappopolazione, altro è quello che può succedere qui. Ma io direi che più che preoccuparci ricordiamoci sempre di stare attenti anche quest'estate. Non è che questa variante, quest'estate creerà problemi, ma non dobbiamo abbassare la guardia perché già l'anno scorso, alla fine, a settembre, avevamo già visto che c'erano dei problemi e io ricordo bene i problemi erano quelli che erano andati in vacanza in paesi, Malta, Grecia, Croazia, dove non c'era nessun controllo e ci hanno riportato centinaia di migliaia di casi di virus in Italia. Quindi rilassarsi, divertirsi, ma con un minimo di cautela.